Per me il 2021 è stato un bellissimo anno, ma allo stesso tempo è stato un anno difficile perché appunto c'è stato il covid, c'è stata la quarantena, le restrizioni, ci sono state diverse cose. Sono molto contento di dove sono arrivato, ringrazio anche molto il mio manager, il mio team che sono sempre stati con me, sono molto contento di dove sono arrivato e spero di far sorridere molte altre persone.